Siamo in diretta fuori dal Palazzo del Governo dove è atteso a momenti l'arrivo del grande corteo della manifestazione generale contro la fine del mondo. Come sapete infatti dopo essere stata annunciata più volte negli anni passati, da quest'anno l'Apocalisse è entrata ufficialmente in vigore. Nessuna proroga dunque, il mondo sta finendo. Il provvedimento però è molto impopolare e c'è malumore fra la gente. Come vedete dalle immagini i manifestanti sono tantissimi, vengono da tutti i continenti e chiedono a gran voce di non morire. Signor Magnozzi, quali sono le ragioni della vostra protesta contro l'Apocalisse? Noi diciamo no all'Apocalisse. Sì, è chiaro, ma come vi proponete di combattere la fine? Noi diciamo no alla fine. Ho capito, ma quali sono le vostre proposte? Noi diciamo no alle vostre proposte. Scusi, ma adesso dire soltanto no. Noi diciamo no al no. Noi diciamo no a Magnozzi. Nemmeno portate fuori dall'inquadratura questo. Noi diciamo no a portare fuori dall'inquadratura questo. Comunque non si può lavorare così, e dai. Noi diciamo no a lavorare così, e dai.